Ciao Fere! Ciao Steph! Guarda! Ok, hai portato un blocco di smeraldo, allora? Non l'avevi mai visto! Eeeh, non... Sì, no, mi stanno venendo dubbi, cosa vuol dire che non l'avevi mai visto? Che non hai mai visto questo blocco di smeraldo! Sì, è un blocco di smeraldo, Steph! Fere! Eh? Cosa stai dicendo? Non hai mai visto un blocco di smeraldo, guarda! Vedi? Tu non hai mai visto tutte queste cose, Fere! Mi stai confondendo e mi fai paura! Allora, questo oggi dobbiamo vedere la mod che aggiunge un sacco di gelti di smeraldo, però il blocco di smeraldo è quello classico, ovviamente! Eh, appunto, infatti mi stavi trippando! Esatto, era quello l'obiettivo! Ho detto, cavolo, magari a qualche... io pensavo, in realtà, magari a qualche particolare che in questo momento non sto notando e non voglio fare una figuraccia, capisci? Era quello l'obiettivo, Fere, sei stata trollata malamente! Eh, Steph, girati! Che c'è? C'è Fone! Ci sta, ci sta, ci sta! Dentro la prima cesta andremo a vedere i primi oggetti fatti di smeraldo! Ok! Può prendere tutto, cara! Venga, venga, venga! Non è la nostra presa! Ci sono un bel po' di armi a testa, che sembrano molto fighe, non ve lo dovrei provare! Mio, 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 mio! E poi, ovviamente, l'armatura! Quindi, fai tutto! Uh! Ma mi sa che da... Allora, le uova le lascio a te, in effetti, perché le sto prendendo! Eh! Jump boost! Corsa più veloce! Aspetta, ho dimenticato i pantaloni! Protezione totale! È interessante! È interessante, eh? Uh! È interessante, è interessante! È bello, sì! Ok, dopodiché, andando in ordine di potenza di armi, devi mettere l'emerald sword, che è classica come prima arma! Ok! Ok! Poi devi mettere l'ascia! Eh, ok! Poi metti la katana! Ok, ci sta! Poi quella curva! Sì! Infine quella gigante! È l'arco? E poi l'arco per ultimissimo! Ok! Ok! Adesso io evoco un po' di pigmen! Ok! E testiamo il tutto! Allora! Pronta? Vai! Vado! Affrontalo! Ok! Puoi spammare 1.7! Giusto! Me ne dimentico! Ok! Ok! Lo distruggi facilmente! Morto facilmente! Ho solo colpo e dimmi quanto ci mette ad ammazzarti! È fortissima l'armatura! È fortissima! È fortissima! Cioè mi leva a mezzo cuore a botta! Esatto! Quindi ci voleva un'infinita di tempo per uccidermi ovviamente! Passa l'ascia! Ok! Vado! Ok! 1! Uh! Va bene! Colpi totalmente! Passa alla spada successiva! Ok! Sono curioso di vedere se l'ultima basterà un colpo! Sempre 2! Ok! Quella curva! Sempre 2! Ok! Quella enorme! Bellissima! Vai! Vai! No! Sempre 2! Sempre 2! Ok! Prova l'arco! Ok! 1! 1! 2! 2! 3! Non mi sembra così forte! Aspetta! Ok! Hai visto? Ah! Eh! Se lo lancio a terra prende fuoco! No! Non è tanto a terra! Mi sa che caricare il colpo al massimo! Carichiamo! Sì! Devi caricare il colpo al massimo! Ah! Io vabbè! Mi stavo venendo addosso! Poi ovviamente lui immune to fire! Ok! Ok! Se io te lo faccio provare contro dato che ce li ho! Aspetta che devo mangiare! Aspetta un secondo! Vai! Ma per favore! Vai! Mi mese sempre fame! Vado! Adesso il ragno lo farai bruciare! Vedi? E allora sì che ha senso! Ok! Perché altrimenti non va a senso di esistere! Muori! Muori bruciato! Sì! Sì! Dai! No! Ok! Allora ha senso! Allora è bella strong anche questa! Ok! Ok! E queste erano le armi e l'armatura! Sembra che davvero si prende pochissimo danno! Si corre più veloce e così via! Quindi non è per niente male! Io mi tengo! Ma mi tengo questa che è la mia preferita! È la più forte no? Certo! Sei banale però! Guarda che bella e gigante! È la preferita di chiunque! Non fare la pazza! Allora! Vai! Adesso è il momento dei vari utensili! Ok! Ce n'è! Prenditi tutti! Ok! Uno che c'è scritto! Che è la staffa! Ok! Di usare con cautela! Quindi io premerò a destra! Perché mi rimbocca! No! Cioè! Ho mirato lontano! E non so perché! Penso che abbia preso un pezzettino di terra! Quindi abbia rimbalzato qua! Sì ma stai! Aspetta Steph! Aspetta aspetta! Ok! Non c'è problema! Riparo tutto! Che riparo! Non fosse successo niente! Riprendo i blocchi e riparo! Ma non puoi rimanere! Così non mi senti più! Smetti! Dai Steph! Un buco gigante qui! No però! E ormai! Spostati! Spostati! Vieni via! Vieni via! Ok! Altrimenti facciamo esplodere anche le ceste! E quindi ti dicevo! Questa qua! È una staffa! Fere! Fere si seria! Sto rimediando! Al mio dam! Allora! È finito! Dove è Steph? Sono quasi morto! Smetti la! Ok! Vai! Ok! Allora! E ti dicevo! Quindi questa qua è la staffa! Ed è fortissima! Per favore allontaniamoci un po' Che ho paura di finire di romper tutto! Anche perché non so se hai notato! Se hai provato a mirare lontanissimo! Ma ha un range impressionante! Sì 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 sì! Quindi è davvero interessante! E poi c'è il Flint and Emerald! Che dovrebbe essere quello! Mi fa male? No! A me no! Bello! Allora che serve? Ma che ne so! Bello però! Scusa cavallo! No! Ti fa male? No! Però mette un effetto forse! Perché ho visto! Non lo so! Però è figo! È bello il colore! Sembra il fuoco del demonio! Però è bello! Aspetta! Ok! Ti hai scoperto? Ti cura! Ma davvero! Ah sì! Allora! Guarda! Io ho fame in questo momento! Ok! Mi faccio danno da solo! Ho perso! Guarda quanti cuori ho perso! E non li posso recuperare! Perché appunto ho fame! Mi metto il fuoco! Vieni questo focolare! Ok! Cura è un parolone! Aspetta! Mi sa che io devo essere full cibo! Ma allora te lo rigenera! Andiamo avanti! Va bene! Va bene! Va bene! Poi abbiamo l'oe! Ok! Non mi sembra che abbia nulla di speciale! No? Vero! Penso che sia un utensile normale! Un po' come quando ce l'hai in diamante! Che non è che ti fa chissà quale effetto! Eh ma... E io lo avevo figo! Allora provo l'accetta che... Uh vabbè l'accetta è forte! Che fa? Eh taglia la legna! Cioè che davvero... Niente ti accorgi che la stai tagliando! Ma perché c'è un buco anche qua? Eh perché ho fatto esplodere un po' ovunque! Ah bella questa! Sì 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 sì! Quindi immagino che anche il piccone... Ok il piccone immagino la stessa cosa! Esatto! Fatemi vedere una... Dimmi non riesco a trovare della pietra! Sì 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 stai! Uh! Stessa cosa! Velocissimo! Velocissimo! Che c'è? Che c'è? Si è scavato un buco? Sì purtroppo sì! Grazie! Bravo Steph! Sono stato intelligente! No vabbè prova la pala sulla terra! Ok! C'è impressionante! Eh vabbè 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 vabbè! Quindi sì rimangono come degli utensili classici nel senso che non fanno chissà quale effetto! Però comunque sono forti quindi va bene! Venga 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 perché siamo ancora soltanto all'inizio! Allora eh aspetta io mi tengo soltanto la staffa di questi oggetti tutti gli altri li deposito di nuovo! Eppure io! Tanto non credo che ci serviranno presto! E a questo punto ci muoviamo sulle cose che di solito a fare piacciono di più! Gli esplosivi! Ecco qua! Pozioni! Sono pozioni! Ma non sono pozioni esplosive! No perché ci sono le torte Ferre per quello dicevo che ti piacciono! Quindi l'OE secondo me potrebbe essere ancora utile perché noi possiamo teoricamente piantare Magari facciamolo qua vicino che c'è l'acqua! Noi possiamo piantare i semini di smeraldo! E quindi nasce lo smeraldo? Non lo so perché ho l'emerald bond ma non mi fa fare il bond meal! Ah ok! E che ne speravo in quello? Semini anch'io! Hai! L'ho lasciata lì uffa! Sì sì! Dove? Vai! No la vado a riprendere! No no fai te! No no la voglio la tua grazie! Non ne voglio! Grazie! Non vuoi pesci? No! Mangiamo un emerald apple? Non posso perché non ho fame! Anche io non ho fame in questo momento voglio piantare i semini! Però li voglio anche far crescere! Eh lo so io speravo che l'osso servisse come bond meal l'osso di emerald e invece no! E quindi ci dobbiamo distruggere! Ok posso mangiarmi la mela di emerald? Ti fa qualcosa? Regenerazione 3! Non ti da neanche quelli in più! Ok! Non può essere più scarsa della golden apple! Sembra chiaramente avvelenata comunque! Sì vero? Non dà un bel feeling! Non dà un bel effetto! L'hai mangiata un po'? No non ho fame! Magari corro vado in giro! Perché secondo me anche questa qua qualche buff lo dà per forza! Perché altrimenti non ha senso di esistere! Poi abbiamo... Mmm... Questo è interessante! Allora! Un attimino! Stai ferma! Ok! Ho la nausea? Ma ho un sacco di cose! Ho anche l'invisibilità? Sì! Ok! Hai tutti gli effetti del gioco! Il problema è che anche la... Steph! Mi serve del latte! No! Mi serve chiaramente del latte perché non finisce questo effetto e non riesco a muovermi! Te la sei autotirata? Aspetta Steph! Scusa un attimo ma io ho bisogno! A che serve una pozione? Che ti dà tutti i poteri del mondo ma ti fa venire una nausea che non ti permette neanche di camminare dritto! No infatti! Infatti adesso prendo subito il latte! Cioè non ha senso! Uno! Prendi anche la bommia la vacca e così facciamo crescere! L'ho presa! No certo! Voglio vedere se crescono gli smeraldi! Ho bisogno di una mano! Ti giuro! Vieni a prendere il latte! No no no! Oh! Ma devi dare! Non riusciamo a muoverti? Fermo! Fermo! Vieni qui davanti! Vieni! Che persona tragica! Ok! Va meglio! Cresce! Sì! Prova a prenderla! Che ti dà gli smeraldi? Sì! Davvero? Sì! Pensavo ti avessi dato quel tipo il grano! Ma rompi rompi! Ti dà uno smeraldo? Sì! Ognuno! Ho ragione! Pianti gli smeraldi! Un po' strana come cosa! Piantare una gemma! Però va bene! Una pietra! Però ok! È carino! Sì! Questo è carino! Questo è carino! Aspetta ho fame! Proviamo la torta! Allora! Torta torta torta! Me ne pentirò! Posso mangiare basta! Amaramente di quello che farò! Tra l'allero! Tra l'allero! Tra l'allero! Che c'è Fere? Stavo guardando le pozioni! Che è sta roba Stef? Ma che bella questa! La fornace! Voglio mettere una fornace Stef! Aspetta aspetta! Cosa fare? Una fornace! Ok! Bella! Ah! Dov'è? Bella Stef! Che stai a fare? No! Niente! Stavo vedendo una cosa! Anche l'Emerald Obsidian è bellissima! Vieni un attimo qua! Dov'è? Qui! 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 Che c'è Fere? Vieni qua! È la TNT! La vedo! Di Smeraldo! Smettila! Tu la vedi? Quando ce l'hai in mano! Altrimenti no! Scompare! Sì! Scompare! Perché scompare? Non lo so! C'è! È cattivissima! Io ho fatto... Non ha funzionato prima e sono esploso! Solo che sono rimasto in silenzio! No! Quando io l'accendo scompare! Guarda! No! Stai finendo da giurare con i buchi però! Sì! Scompare quando l'accendi! È cattivissimo! Perché... Mezzo cuore sono rimasta! Perché tu pensi che non ci sia niente di strano! Capisci? Quindi te ne vai lì! Tra l'allà! Invece si sta per esplodere! Una bomba! Mi sembra anche parecchio forte rispetto alla TNT normale! È molto forte! Mi sembra davvero davvero forte! Ok! Ehm... Hai preso tutte le cose dell'ultima chest? No! Per niente! Perché è l'accesso migliore secondo me! Allora! Ehm... Vediamo un pochettino! Ok! No! Prendi tutto te! A me c'è una cosa che ispira di brutto! Le torce! No! Anzi anche quelle però sì! Le torce! Guarda! Vai! Eh carucce! Guarda che è davvero bellino questo! Come ci sta la grande? Guarda anche io le ho prese! Guarda! Ok! Ehm... Poi... Questo! Metti le torce! Lol! Belle! Belle! Cavolo se sono belle! Pronta! Continuo proprio a vedere come erano! Vai! Eh! Però va attivato! Oh! È figo eh! Molto molto molto! Vero? Sì! Mi piace un botto! Aspetta! Però ne volevo una sottoterra! Ok! Attivami questo! Ok! Vai! Ma aspetta! Basta così? No! Devo mettere proprio a fianco mi pare! Eh! Mi sa di sì! È dato! Vedi! Anche questo! Perché non so bene come si attivano! Sto improvvisando! Steffi! Io ste roba non le conosco! Che figata! Mi piacciono! Ok! Poi! Bello! Ah ma questa è una luce! Sì! È una gloss! Metti lì la lampada a fianco! C'è la torcia! Bellissima! Bellissima! Molto molto figa! Molto molto figa! Puoi fare tipo... Sai quelle città? Stile World of Warcraft! Capito? Sottoterra! Le potresti fare con tutti questi blocchi! Under City starebbe bene così! Under City! Sì! La città di una persona morta! Guarda che bella anche... Aspetta Fere! Ma se noi abbiamo l'Emerald Obsidian noi possiamo fare il portale? Eh sì! Sì! No! Però non andiamo Stef! È certo che andiamo! È certo che andiamo a fare... Assolutamente no! Dobbiamo vedere qua c'è... Non c'è nulla! Ho sbagliato vero? Sì è un po' più alto! Non ho sopporto di da fare... Hai tenuto il piccone? No! Vado a prenderlo dai! Grazie! Porca miseria! E io lo sapevo che avevi sbagliato! Lo sapevo! No! Anche io! Anche io! Questo che è convinto! Perché vado lì sopra e quindi non riesco più a vedere! Capisci? E quella è la difficoltà! Però ci sono rimasto malissimo! Poi non mi sembra sia rimasto nulla di troppo interessante! Se non gli scalini che volevo vedere ma... Bah raga! Scalini! No Stef! Eh... Cioè è tosta! Questo piccone non va bene! Forse ci vuole sempre quello in diamante! Ma ce la stai facendo! Ce la stai facendo! Molto lenta! Il discorso è che non so come risalire lì! Aspetta! Ok! Ho un po' di terra altrimenti! Aspetta! Ok! Vabbè si salta tanto quindi vai! Ok! A te l'onore Stef! Io sono dentro! Perché mi fai entrare? Ok! Cosa? Ok! Perché siamo nella terra dei funghi! Va bene! E tutto poi esageratamente verde! Proprio in stile smeraldo! Ma non so perché siamo capitati qua! Pensavo andassimo in qualche dimensione di smeraldo strana e particolare! Credo che il tipo abbia fatto che sia una random location e basta! Perché secondo me sì! Proprio pigrissimo! Però è bella questa! Dai sì! Ci sta! Terra dei funghi! Un po' deluso! Oh ti ripeto! Mi aspettavo qualche dimensione fighissima! Esatto! Vabbè 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 carina lo stesso! Allora credo che abbiamo provato un po' tutto! Sì! È una moda davvero simpatica e carina nel senso che aggiunge un po' gli oggetti davvero bellini soprattutto a livello estetico ci sono degli oggetti davvero fighi! La staffa che spacca il mondo è bellissima! La Trinity pure! Il migliore guarda! È sufficientemente carina! Sì 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 davvero davvero good good good! Speriamo che il video vi sia piaciuto! Nel caso guardatevi altri video qua sotto da qualche parte compariranno video di Minecraft di Fortnite e di altre cose tanto 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 belle e ci fermiamo così con questo video!